Età 4, Origini ed espansione di Roma Le date 6.000 a.C. in Europa nasce l'agricoltura 1.000 a.C. i Celti in Europa centrale 753 a.C. circa, fondazione di Roma 509 a.C. inizio età repubblicana Roma 600-500 a.C. dominazione etrusca su Roma 496 a.C. Roma sconfigge i latini 474 a.C. sconfitta etrusca a Cuma 343-295 a.C. le guerre sannitiche 264-146 a.C. le guerre puniche 197 a.C. la Spagna, provincia romana 146 a.C. Grecia, provincia romana 121 a.C. Gallia meridionale, provincia romana Roma e l'Italia entra nella storia prima di Roma l'Italia non era che un'area periferica dell'Europa sono soltanto due i poli di cultura della penisola gli etruschi nel centro nord e le città fondate dai greci nel mezzogiorno per il resto mancano la lingua scritta, le leggi, gli scambi commerciali sulla lunga distanza la penisola italica di fatto entra nella storia grazie a Roma che la romanizza via via creando un inconfondibile tessuto di cultura e civiltà destinato a svilupparsi nel tempo e a permanere fino ai nostri giorni 2. La Repubblica, quando la monarchia non basta più come tutte le società antiche Roma conosce secoli di governo monarchico la società romana cresce però tumultuosamente e si dà forme di governo più adeguate e complesse nasce così la Repubblica segnata all'interno dai rapporti conflittuali tra patrizi e plebei ma anche da istituzioni e leggi avanzate all'esterno forte della sua straordinaria organizzazione la Repubblica romana fonde in pochi secoli un vasto dominio che si estende via via a tutto il bacino del Mediterraneo l'Italia ieri, prima della conquista romana la penisola italica era abitata da popoli con diverse tradizioni, lingue e culture man mano che il dominio di Roma si estendeva grazie ai rapporti di alleanza con le varie città e alla diffusione della lingua latina veniva a crearsi un primo nucleo di identità nazionale nell'immagine il Colosseo costruito a partire da 75 d.C. uno dei simboli della civiltà italiana in tutto il mondo l'Italia oggi, il palazzo della civiltà italiana conosciuto anche come il Colosseo quadrato è un edificio monumentale progettato nel 1936 dagli architetti Guerrini, Lapadula e Romano in vista dell'esposizione universale di Roma del 1942 ultimato solo nel dopoguerra il palazzo è ora sede del Museo della Moda l'edificio simbolo di continuità culturale si ispira al Colosseo riprendendone l'architettura caratterizzata da file di archi la Repubblica ieri, il 17 giugno 1789 i rappresentanti francesi del Terzo Stato cioè tutta la popolazione eccetto i nobili e il clero si proclamarono assemblea nazionale il 20 giugno si riunirono nella sala della pallacorda di Versailles e giurarono di non separarsi finché non fosse data al paese una costituzione parlamentare è l'inizio della rivoluzione francese che porterà nel 1792 alla nascita della prima Repubblica nell'immagine il giuramento della pallacorda in un dipinto di Jacques-Louis David del 1791 la Repubblica oggi il 2 giugno 1946 venne indetto il referendum che avrebbe permesso al popolo italiano di decidere quale assetto dare al paese monarchico o repubblicano contestualmente si sarebbe votato per eleggere un'assemblea costituente che avrebbe dato all'Italia il testo con le leggi fondamentali dello Stato gli italiani scelsero la Repubblica la cui festa viene celebrata il 2 giugno di ogni anno nell'immagine la parata del 2 giugno 2013 a Roma gli italiani scelsero la Repubblica gli italiani scelsero la Repubblica la Repubblica l'immagine la parata del 2 giugno il 4 giugno di ogni anno effetti si sbagliare un polare